Sono contenta che siate qui al carnevale Vabbè, lei viene da? Fano E Fano e Fanese Il carnevale le piace sicuramente Io sono 70 anni che mi maschero Quindi questo già dice la mia età e tutto il resto Siamo qui al carnevale di Marotta Ma che Marotta? Ho sbagliato, il carnevale di Fano Il piantico e il più dolce di tutto il mondo Ma lei da dove viene? Io dal Poderino Anche lei del Poderino Niente, vi volevo invitare stasera al carnevale del Poderino Venite tutti, c'è il getto della patata Ma come il getto della patata? Il getto della patata Tiriamo le patate Abbiamo le patate che ci avvoltano Ma fanno male le patate Ma scherzi, le patate Una patata non ha mai ammazzato nessuno Anzi Ha un discreto peso specifico No, una patata può fare soltanto del bene Centinelli Più patate per tutti Più patate per tutti Esatto Più patate per tutti Vedo che lei è compenetrato molto nel ruolo Io sono molto contento di essere su questo pesce Su questo pesce È un pesce gigante Siamo su un pesce, signora Sì, è un carro del pesciatore Pesaro, pesaro Sono un'affizionata Tutti gli anni Sareste messi così? Siamo i medici della peste Ne curiamo gli ammalati E mi raccomando per tutti Chi ci ascolta da casa Mi raccomando Non vaccinatevi Così c'è più lavoro per noi Coloratissime parrucche Come le avete scelte i colori? Beh, io preferisco l'azzurro Non il maschietto blu Lei là? Rosso Rosso Bene Perché? Questo è rosso E rosso E quindi insomma Un po' di allegria Ma un po' di allegria ci vuole E giù Pesaro Peso Pochi chilometri Sì, pochi chilometri Roba vostra? Sì Un poliziotto? Giusto? Sì E una? Un Una fatina Cioè hai la bacchetta E una fatina? Una fatina principessa Fatina barra principessa Insomma, vabbè Immagino che non è la prima volta Che venite al carnevale Ma veramente è la prima volta È la prima volta Veramente è la prima volta Abbiamo beccato Sì 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 Bellissimo Molto bello Molto molto Complimenti Grazie Bella organizzazione Bravi Grazie Fa parte del servizio di sicurezza O è un infiltrato? No, sono un infiltrato Da, viene da Sì, da Pesaro Da Pesaro Un po' di strada Prima volta al carnevale o? No, sono già venuto un paio di volte Le piacce? Sì Anche mascherate Eh, quello il gusto Nel carnevale diciamo Ecco Voi invece fate da supporto medico a lui? Supporto medico? Sì Se si sente male Si sente male